Gli impresentabili sono gli incapaci. Gli impresentabili sono quelli che non hanno alcuna idea e non hanno mai letto Goethe, che chiede loro una cosa sola, di rispettare la Sicilia. Rispettarla perché da essa tutto origina e in essa c'è l'essenza di tutto quello che noi vediamo come una bellezza senza fine in Sicilia e in Italia. L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Questo pensa Goethe, questo dice Goethe. Questi non sanno nulla della Sicilia e vivono soltanto per fare una serie di polemiche per mostrare che loro potranno fare meglio. Non gli resta niente, sono totalmente privi di anima.